E' la prima volta che in un'amministrazione, in questa amministrazione, vengono messi a bilancio i fondi per garantire ai bambini disabili assistenza specialistica, che è diversa dall'assistenza di sostegno. Da quest'anno il Comune di Napoli garantirà agli alunni con disabilità l'assistenza specialistica nelle scuole. Oltre 2 milioni di euro inseriti in bilancio, che in aggiunta agli ulteriori stanziamenti ministeriali portano a 4 milioni e 800 mila euro, la cifra complessiva erogata a sostegno dei ragazzi durante le ore di lezione. L'assistenza specialistica è una figura destinata ai bambini disabili e che aiuta i bambini a svolgere una serie di attività all'interno della classe. Copriamo per tutto l'anno scolastico le esigenze di tutti i bambini disabili della nostra città, che sono nelle scuole primarie, dell'infanzia e secondarie. La misura di sostegno, approvata con una delibera di giunta, raggiungerà una platea di circa 600 bambini disabili che potranno avvalersi di una figura specializzata durante l'apprendimento in aula. Prima non si riteneva necessario mettere a bilancio fondi per questo tipo di assistenza, andando contro la legge, perché molte delle famiglie con figli disabili facevano una causa al comune, la vincevano e il comune doveva anche rimetterci molti soldi di spese e anche di aggravio su una causa persa. Non è una scelta, questo è un diritto, è la legge che prevede che ogni bambino disabile debba avere la specialistica e finalmente con questa giunta e con, possiamo dire, la sensibilità del sindaco, ma di tutta la giunta, siamo riusciti ad ottenere il massimo. Questo fa bisogno di 4 milioni e 800 mila euro corrisponde già a tutte le domande che sono state presentate quest'estate e che finalmente noi daremo una risposta tendenzialmente veloce, perché già da oggi le dirigenti possono attuare questo servizio.